Salve a tutti, sono il dottor Giuseppe Rizzo, mi sono laureato in medicina e chirurgia nel 1985 ed ho preso la specializzazione in odontostomatologia nel 1989. Nel mio studio offro la mia competenza per le varie branche dell'odontoiatria, ma le mie punte di diamante sono l'ortodonzia anche per i bambini in età molto precoce e l'implantologia computer guidata. Naturalmente sono a vostra disposizione per qualunque domanda o curiosità che vogliate pormi venendomi a trovare nel mio studio in via Duccio Calimberti 27 alla Balduina. Vi aspetto e grazie a tutti. Grazie a tutti.